Qual è la domanda che ho già fatto prima? Qual è la domanda che la Repubblica Comune dalla parte israeliana come pure da parte palestinese ci sia una tale saturazione della violenza, di questo senso di insicurezza per cui il discorso di usare strumenti non violenti possa essere visto non più come che abbia possibilità concrete di ottenere qualche risultato in più rispetto all'uso della forza? Questo è l'ospicio. Noi siamo abituati da varie decadi a una visione diversa dall'ospicio. Cioè il tempo ci ha abituato a vedere una violenza consolidata, a volte per offesa, a volte per difesa, da ambe e due le parti. Dio non voglia che questa essere una cosa consolidata diventi consolidata, nel senso che diventa una cosa che rende anche ipotecato il futuro. In questo contesto, in cui a volte è difficile pensare che lì esista una normalità di vita per le persone, anche se esiste, ma sembra stridente con quelle che sono i dati di cronaca che molte volte vediamo nelle nostre televisioni. Ebbene, ci sono delle persone che hanno già provato da tempo e continuano, grazie a Dio, a impegnarsi nel senso di rendere possibile, se non la pace, il dialogo. Anche perché pace non è soltanto il fatto che le armi cessino. Kant scrisse un piccolo libercolo che è per la pace perpetua, no? E aveva scelto come sfondo un'illustrazione di un cimitero, perché dopo Westfalia si aveva il terrore che la pace fosse quella dei cimiteri. Noi non vogliamo la pace dei cimiteri, questo proprio non è nostra intenzione. La pace vera è quella che nasce dal dialogo. Allora, è bene che la prima cosa, ed è un buon segno, che la prima cosa che noi abbiamo è il dialogo. Ora, c'è da sperare che appunto, siccome le generazioni si alternano, la generazione più giovane, quella che sta venendo, si è educata in una prospettiva di dialogo. E l'auspicio che deve essere anche preghiera è che però la generazione immediatamente più vecchia e quella che attualmente governa non disattenda l'educazione al dialogo. E questa è forse la cosa su cui non basta soltanto la buona volontà, bisogna anche avere un po' di speranza in una prospettiva più alta, visto che a volte il presente lascia poco di che sperare. Sì, beh, certo, le nuove generazioni e lo strumento filmico, quello dei media come questo, con esempi di vita concreta, possono essere, cioè, io se ne sono convinto, però vorrei avere un confronto, uno strumento buono soprattutto per le nuove generazioni, perché convincere gli anziani diventa più difficile. Io credo anch'io di sì, però dobbiamo fare attenzione, perché i media è molto più facile che vengano adoperati come sono adoperati, in senso totalmente contrario a quello che può essere uno discorso di pace. Molte volte, siccome ci sono più interessi, fa più clamore, fa più notizia, fa più vendita, i media sono utilizzati molto più facilmente, in maniera molto più efficace, perché scuote e quindi convince, in senso contrario. Quello che possiamo sperare è che film che hanno un altro scopo, cioè lo scopo di far riflettere, di pacificare, anche se la strada è irta, è scomoda, è lenta, smuovono delle minoranze qualificate. A volte una minoranza qualificata può fare più con una maggioranza che qualificata non è. Io credo che in questo senso sia un contributo estremamente positivo. Grazie mille. Grazie mille.